Maurizio Arce è pronto a candidarsi come sindaco di Belvedere Marittimo. Voglio mettermi in gioco, ha dichiarato il presidente dell'Aias di Cetraro. Molte persone credono in me e apprezzano la mia perseveranza. Da giorni il suo nome circolava insistentemente negli ambienti politici della cittadina tirenica. Tante le indiscrezioni trapelate, alcune infondate, che meritano anche delle precisazioni. La prima, fra tutte, è quella sulle possibili alleanze. Arce è stato chiaro, dialogheremo con tutti, ma non con il sindaco Enrico Granata. Penso che quella parte politica abbia detto la sua. Stiamo già incontrando i rappresentanti delle sezioni cittadine dei partiti, delle associazioni e anche i delusi dell'attuale amministrazione. Voglio essere di rottura, ma soprattutto, ha concluso Arci, voglio rimanere lontano mille miglia dalle solite manfrine politiche. Penso che ci sia davvero bisogno di aria nuova e di idee innovative. Al momento Arci non si sbilancia con i nomi e ha annunciato che già entro questo fine settimana potrebbe tenere una conferenza stampa in cui spiegherà meglio il proprio progetto. Ma vediamo anche cosa accade sugli altri fronti. Il primo cittadino Enrico Granata ha ammesso che nella maggioranza da lui guidata si è aperto il confronto sulla sua candidatura, già confermata peraltro, ma che, a quanto pare, continua ad alimentare qualche mal di pancia. Con i giochi già decisi, l'unico effetto di questa discussione sarà quello di far prendere altre strade ai dissidenti. Come d'altronde fa intendere anche il primo cittadino. L'obiettivo, ha spiegato Granata, è quello di rimanere compatti. Certamente non posso forzare nessuno. In casa PD, invece, Riccardo Ugolino continua con i suoi incontri e, per quanto riguarda le possibili alleanze, ammette che ancora i giochi sono aperti. Grazie a tutti.